dove vado ora? ha capito sono un pò pene 2 ok 3 dollari 2 dollari con un guan di daiki una oh prendiamo un guan di daiki proprio potenzione mamma mia mamma io sono uno che non è più bello questo è uno tipico sono un po' droppi sono un po' droppi sono moltissimi mamma mia sei di chi siamo strati siamo stra mega non so vuol dire non evitate delle cose di crescimento se no ok meglio non farei delle cose di crescimento ma viene molto male molto fordo male io mi vado a prendere quattordici monona a me sega quattordici ho già ricchi oh mi sega mamma io mi vado a prendere mi vado a prendere un altro video mi vado a prendere mi vado a prendere mi vado a prendere un pet senza pet cosa facciamo niente 300 100 dollari giamani che fortuna non ci stanno i pet incredibile non ci stanno i pet non ci stanno i pet o no ricordo che una fabbrica i pet non ci stanno ma non stanno i pet cosa fredda chi 6 ma non ci stanno i pet e percorrere che stanno i pet mi cica bum e vediamo a piguio qui sotto l'indale da c'è un mezzo c'è sapevo si tu è mitzica tu è rio no mitzica da gatti perché senti mitzica oh non tu è un po non ma non tre 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 vi farei vello 4 quindi perché sono va 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 sono una mizca ah sta girando Mizzica 3 milioni di volte basami ah basa Mizzica sta a casa di Matteo basa basa mi sono pissato con questa volta ragazzi tutto è un supporto a me la mia Mizzica ah ah a me la mia Mizzica basta Mizzica due spin no 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 non ho tre non ho path si fa per te ma non è stato un path a me so due Sì, 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 sì. video ciao ragazzi questo video è durato troppo ciao